Siamo convinti di aver ottenuto il miglior risultato possibile grazie a un lavoro di squadra. E' questo il commento dell'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verri, all'indomani dell'approvazione in consiglio regionale della nuova rete ospedaliera che consente di disporre di uno strumento di programmazione capace di superare i passaggi ministeriali. Il documento di re-ingegnerizzazione e programmazione dell'assistenza ospedaliera, che ha avuto il via libera dell'Assemblea legislativa, quale ultimo passaggio di un iter amministrativo durato quasi due anni e mezzo terrà conto dei criteri di efficienza e complementarietà delle discipline in relazione ai bacini di utenza. I presidi ospedalieri saranno così classificati. Quattro ospedali all'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo con funzioni hub per le reti tempodipendenti. Quattro ospedali di primo livello ad Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Sei ospedali di base tra Ortona, Popoli, Penne, Atri, Giulianova e Santomero e due presidi di area disagiata con sedi di pronto soccorso a Castaldisangro e a Tessa. Tra le novità principali, la riclassificazione del presidio di Sulmona con l'idea di primo livello con il mantenimento del punto nascita per il quale sarà attivato un progetto sperimentale da sottoporre alla valutazione del Comitato per Corso Nascita Nazionale, quella dei nosocomi di Ortona, Penne e Popoli in ospedali di base, sede di pronto soccorso, la classificazione dei presidi medici H24 di Tagliacozzo, Pescina e Guardia Grele in stabilimenti ospedalieri rispettivamente degli ospedali di Avezzano, Laco e Lecchieti in cui ubicare specifici reparti specialistici e infine il riconoscimento al presidio di Atessa della funzione di ospedale di area disagiata. Per provvedere all'individuazione di idea di secondo livello la Regione avrà 36 mesi di tempo. L'approvazione da parte del Consiglio regionale della nuova rete ospedaliera rappresenta un momento storico per la sanità abruzzese perché per la prima volta, e ci tengo a sottolinearlo per la prima volta, la nostra Regione dispone di uno strumento di programmazione che ha superato tutti i passaggi ministeriali a dimostrazione del grande lavoro che è stato portato avanti dal nostro Governo regionale. Un iter amministrativo durato quasi due anni e mezzo. Un periodo che non è trascorso a vuoto ma durante il quale abbiamo portato avanti un confronto serrato sia con i ministeri sia con i tavoli tecnici attraversando diversi governi, due governi nazionali. Abbiamo sempre difeso con convinzione le istanze della nostra Regione perché non è stato semplice calare in una realtà come quella della nostra Regione quelli che sono i requisiti, gli standard del DM70. Noi ci siamo riusciti e credo che questa rete abbia anche un altro merito che è quello di aver aperto una nuova riflessione proprio sull'applicazione degli standard del DM70 che purtroppo nelle regioni più piccole e meno densamente popolate continuano ad avere delle difficoltà ma da quale sono convinto che attraverso questa nostra approvazione riusciranno a beneficiare anche gli altri territori del nostro Paese. Grazie.